I patetici nel 2017 si mettono a fare queste cose, il problema è che sono anche giovani, ma sono dei giovani vecchi, sono ormai passati, la storia ha condannato il comunismo e non conoscono neanche il bodo della democrazia perché noi siamo qui a fare una manifestazione tranquillamente e questi invece di andare al mare si attaccano agli striscioni, tra l'altro anche uno striscione un po' povero perché talmente piccolo, talmente insignificante, magari avrebbe dovuto fare qualcosa di più bello, di più interessante, tutta pubblicità, tutta pubblicità.